Adesso sono tanti pugliesi in Piemonte, sì, Presidente della regione Puglia, Michele Vignano. Io però soprattutto ringraziare voi che avete onorato il nome della Puglia, avete onorato il lavoro, avete onorato la legalità. Noi ce la stiamo mettendo tutta per dare onore al nome della Puglia, noi non vogliamo mai, noi vogliamo continuare a correre di dire, vogliamo continuare ad andare avanti e con l'aiuto di altre regioni speriamo di avere dallo Stato e dalla Patria l'aiuto che ci spetta. Cioè noi siamo di orientamenti politici diversi, nella sostanza invece noi apparteniamo a questo Paese, siamo stati unitissimi durante la pandemia, siamo stati unitissimi per difendere il sistema sanitario nazionale, uguale per tutti, siamo unitissimi per difendere la bellezza del Paese, l'ambiente, la sua capacità competitiva. In questo, fidatevi, hanno fatto bene tutti i Presidenti della Conferenza delle Gioni a fare questa festa perché io ho avuto l'impressione, avevamo avuto l'impressione, che non tutti gli italiani fossero consapevoli del ruolo straordinario che le regioni hanno nel comporre il successo del nostro Paese. E quindi, visto che nessuno parlava bene di noi, abbiamo cominciato a farlo da soli, di raccontarvi da soli, da noi stessi, cosa fanno le regioni e soprattutto con che metodo. Un metodo che ci porta a chiudere ogni riunione, nove volte su dieci, con decisioni all'unanimità. Immaginate voi se a Roma sarebbero mai capaci di chiudere le riunioni all'unanimità. Grazie.